Riaccogliamo in commissione il progetto di legge numero 49 riguardante la tematica dei cosiddetti genitori separati. Il consigliere Saggese che si era impegnato in un gruppo di lavoro ha portato avanti questo tipo di attività affinché non si è trovato un accordo unanime però si è trovata una bozza discretamente condivisa e ha chiesto di poterlo ricalendarizzare in commissione per cui gli chiedo una relazione sull'andamento del gruppo di lavoro e sulla proposta che invece riporta in commissione. Prego consigliere Saggese. Sì grazie Presidente. Mi trovo ad illustrare il progetto di legge numero 49 norme a tutela dei genitori separati e divorziati e dei loro figli. Un progetto di legge che sorge dalla necessità di porre in essere delle soluzioni a un'emergenza sociale sempre più frequente legata agli eventi separativi della famiglia. Secondo le rilevazioni statistiche la rottura dei legami familiari è un fenomeno sociale che riguarda un numero sempre più alto di famiglie e questo fenomeno determina elementi di impoverimento sia materiale che affettivo. Voglio dare proprio per poter meglio sostenere le ragioni di questo progetto di legge una vision sui dati statistici. L'ultima rilevazione nazionale dell'Istat che risale al maggio 2013 e che riguardava l'anno 2011 vede in continua crescita i tassi di separazione dei coniugi. Tanto è vero che nel 1995 c'erano circa 158 separazioni e 80 divorzi e nel 2011 questo numero si è più che raddoppiato. Quindi siamo a 158 separazioni e 80 divorzi ogni 1000 matrimoni e nel 2011, quindi voglio dire a distanza, nell'ambito di questo lasso di tempo i numeri sono più che raddoppiati e siamo oltre 300 separazioni e 180 divorzi nel 2011. Per quanto riguarda Regione Lombardia, sempre questa rilevazione statistica ci dice che si sono verificate in Regione Lombardia 15.106 separazioni, il 50% delle separazioni legali vede almeno un figlio minore affidato e il 91,5% il figlio o i figli sono affidati ad entrambi i genitori. Questo nel rispetto di una legge nazionale che è la 54-2006 che ha previsto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori in materia di separazione degli stessi. E' un aspetto, se mi è consentito, all'interno della Commissione sul quale dovremo porre attenzione perché le politiche sociali da attuare nell'ambito di questo fenomeno devono poter accogliere sia l'uno che l'altro genitore, quindi sia la mamma che il papà perché le statistiche ci dicono che il 91% dei minori oggi sono affidati ad entrambi i genitori. Nel momento in cui la legge dello Stato riconosce l'importanza per il minore di avere accanto entrambi i genitori le politiche sociali che vengono attuate da un ente come Regione Lombardia non può assolutamente mettere da parte questo aspetto e quindi va sostenuto sia l'uno che l'altro genitore nella cura e nelle attività necessarie per la crescita dei minori. Vorrei ora illustrare quali sono gli elementi che determinano situazioni di impoverimento. C'è da evidenziare che secondo la legge a cui facevo riferimento prima dell'affido condiviso entrambi i genitori esercitano la potestà genitoriale e genitoriale e devono provvedere al sostentamento economico dei figli in misura proporzionale al reddito con una differenza perché è facoltà anche se poi questa facoltà è consuetudine applicata dall'autorità giudiziaria è facoltà a stabilire un assegno periodico a favore dei figli. Quest'ultimo è corrisposto nel 96% dei casi è corrisposto solo da un genitore all'altro genitore. Questo genitore è generalmente nel 96% dei casi la figura paterna. L'entità media di questo assegno è pari, e qui ce lo dice l'Istat al quale faccio riferimento, alla rilevazione, al riporto al quale faccio riferimento, è di 652 euro mensili, tra l'altro con una differenza tra il nord e il resto dell'Italia perché il padre separato del nord Italia paga un assegno di mantenimento superiore a quello che mediamente si paga nel resto del paese, quindi paga generalmente 650 euro a figlio contro una media nazionale di 529. A questo aspetto va aggiunto che oltre il 60%, per una percentuale superiore al 60% delle separazioni, la casa viene assegnata in godimento solo a uno dei due genitori, mentre l'altro, anche in questo caso il padre, è costretto a poter, a dover trovare sul mercato una casa che sia capace di poter accogliere i figli. Abbiamo qui un dato statistico che ho rilevato dalla Camera di Commercio di Milano dove l'affitto sul mercato libero è pari a 158 al metro quadro, vuol dire se facciamo in fretta comunque una valutazione, un monolocale, un appartamento da 50 metri quadri, determina un costo di circa 600-700 euro che vanno aggiunte all'assegno medio mensile di 659 euro che si menzionava prima, per cui ci troviamo dinanzi a un soggetto che eroga risorse per questa entità e siamo arrivati soltanto a 1.400 euro. La separazione poi non fa venire meno gli impegni nei riguardi di un debito che è stato contratto per poter acquistare la casa familiare che per l'appunto la figura del padre si trova poi ad abbandonare. Anche qui ci viene in aiuto un dato che io ho estrapolato dall'Agenzia del territorio e da Abi e che illustra che l'entità del MUD, della rata che viene sostenuta per poter far fronte a questo indebitamento è pari a 700 euro. Per cui abbiamo una figura sulle cui spalle si riversa 659 euro di mantenimento dei figli, 700 euro per poter individuare sul mercato libero una casa dove poter far stare i figli e in più, ipotizzando che questo mutuo possa essere e debba essere pagato da entrambi, 350 euro di mutuo che è stato contratto dalla vecchia operazione immobiliare e che cade sulle proprie spalle. Si inserisce poi anche un altro aspetto che è legato agli oneri che la normativa del nostro Paese determina nell'ambito delle procedure di separazione perché la procedura di separazione prevede che ci si rivolga ad un giudice che si attivino quindi dei servizi di natura legale e si attivano per bene due procedimenti. La normativa italiana, lo conosciamo tutti, prevede che ci sia prima la fase della separazione e poi prevede che ci sia la fase del divorzio. Una fonte prelevata da Borsa Italiana SPA del marzo 2013 illustra che gli oneri legali per un genitore che si separa, perché deve ricorrere a questa procedura in quanto coniugato, ammontano dai 5.000 ai 15.000 euro. Quindi è un ulteriore elemento che va ad impoverire da un punto di vista materiale chi si trova dinanzi a questo tipo di problematiche. Quindi per il genitore non assegnatario della casa familiare le risorse economiche restano generalmente le stesse di cui disponeva prima della separazione, ma con una differenza, perché dopo le spese aumentano in misura esponenziale. L'assegno periodico, il canone d'affitto, gli impegni finanziari per acquisto della casa familiare che è stata lasciata, più gli oneri legali. Non sono poche infatti le situazioni in cui si vede costretto generalmente il padre ad abbandonare la casa e ad essere ospitato dalla famiglia d'origine, parenti, amici, colleghi e in molte circostanze anche dagli enti caritatevoli. Questa per un genitore che risulta affidatario e deve occuparsi della crescita del proprio figlio non è certamente l'abitat ideale per poterlo crescere, perché poter crescere il figlio presso la casa della famiglia d'origine, piuttosto che di parenti, amici o anche presso gli enti caritatevoli, non è certamente una cosa facile. E il problema economico che qui si illustra poi fa scatturire problematiche di natura relazionale. Di fatto, anche se abbiamo una norma che induce entrambi i genitori ad occuparsi dei figli, ma l'aspetto pratico che induce uno dei due genitori a dover ricorrere a delle soluzioni alternative che non gli danno la possibilità di avere un'autonomia abitativa, automaticamente fa venire meno un'importante e fondamentale relazione con i figli. Se non c'è una casa, il genitore che è costretto a lasciarla non saprà certamente dove poter crescere il proprio figlio. Questi sono gli elementi che vogliono illustrare le ragioni e le motivazioni di questo progetto di legge che vanta ben 13 articoli. L'articolo numero 1 individua le finalità della legge e i suoi beneficiari con l'obiettivo principale di ridare l'importanza al ruolo genitoriale di entrambi i genitori nei confronti dei figli. L'esplettamento di questo obiettivo può avvenire aiutando quei genitori che, trovandosi in difficoltà, non riescono ad offrire ai propri figli una continuità di relazione, proprio per le dinamiche che ho appena illustrato. L'articolo 2 illustra il patto per la bigenitorialità. L'articolo individua la creazione di un patto per la bigenitorialità. Rappresenta questo patto per la bigenitorialità, almeno così si vorrebbe intendere tale iniziativa, un importante lavoro di condivisione tra più figure istituzionali, pubbliche e private, le associazioni di volontariato del territorio incluse, con la loro esperienza pratica e provata, affinché si possa originare un sistema di rete per il welfare, conferendo omogenità nell'opera di sostegno a tutti i componenti della famiglia. Tale patto, individuato nell'articolo come lo strumento al quale ricorre Regione Lombardia, si concretizza ulteriormente attraverso l'individuazione di appositi tavoli, sui quali per l'appunto gli enti che ho appena menzionato possono incontrarsi e lavorare. L'articolo 4 parla delle competenze della Regione. Con questo articolo ci si rivolge alle scuole, al sistema sanitario, ai comuni per evitare che il genitore non convivente con i figli, ancorché affidatario, possa essere escluso dalle scelte educative, sanitarie e di residenza. Pensiamo ad esempio alla comunicazione scolastica affinché questa venga resa edotta non soltanto al genitore collocatario ma anche all'altro genitore affidatario. Pensiamo alla stessa cosa anche in ambito sanitario e facciamo un'analisi invece sul problema legato alla residenza. Infatti un problema di grande rilevanza risulta essere lo spostamento della residenza del minore senza il consenso dell'altro genitore. È una dinamica questa che si verifica molto spesso. Con il presente articolo si vorrebbe evitare che uno dei due genitori possa decidere unilateralmente di trasferire la residenza del figlio senza una preventiva condivisione con l'altro genitore. Nei migliori dei casi il trasferimento deciso in maniera unilaterale avviene anche a pochi chilometri di distanza. In molti altri casi e quindi nei peggiori a migliaia di chilometri il che limita ancora di più il rapporto che dovrebbe esserci tra il figlio ed il genitore. L'articolo 5 centri di assistenza e centri di mediazione familiare hanno l'obiettivo di attivare i centri di assistenza e di mediazione familiare ed è quello l'obiettivo di attenuare le fasi di conflitto che la separazione può originare tra i due genitori. Meno conflitto e più serenità tra i figli. Per i figli. Anche perché molte volte un procedimento di separazione dura molto tempo è un conflitto senza fine. La durata media è di 691 giorni e se pensiamo che all'interno di un conflitto lungo si possono annidare maggiori difficoltà relazionali e psicologiche da parte dei figli che sono coinvolti in questo conflitto penso che questo articolo possa aggiungere dando il suo contributo attraverso l'attivazione di servizi di mediazione familiare che fondamentalmente dovrebbero indurre i genitori ad eliminare per appunto il conflitto, a ridurre il tempo da dedicare all'individuazione della risoluzione del nuovo menage familiare. L'articolo 6 parla di interventi di sostegno abitativo. Col presente articolo si intende offrire un sostegno abitativo a chi dovendo lasciare la casa familiare in virtù dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria si ritrova senza un'abitazione. L'importante diventa quindi oltre all'incentivare l'autonomia personale offrire anche spazi adeguati per far sì che non si interrompano i rapporti con i figli perché se dobbiamo entrare, se l'articolo intende entrare in una logica di sostegno abitativo bisognerà tener conto che questo sostegno abitativo dovrà essere offerto in maniera tale che anche la soluzione abitativa possa permettere di poter accogliere in maniera paritetica ovviamente i figli quando poi i figli saranno con la figura che generalmente viene per l'appunto esclusa. L'articolo 7 parla di interventi di sostegno economico, l'intervento di tipo economico fa riferimento allo stato di povertà, tra l'altro censito anche dal rapporto Ores in cui un genitore si può venire a trovare nei casi di separazione di divorzio e quindi possa trovarsi nell'impossibilità di mantenere poi gli obblighi di legge imposti dai provvedimenti dall'autorità giudiziaria. Le forme di sostegno così come vengono indicate nell'articolo del progetto di legge numero 49 vengono individuate nell'aiuto laddove non vi sia assegnata una casa di edilizia sociale come vorrebbe invece fare l'articolo che ho relazionato precedentemente a questo. Un secondo aiuto prevede la corrisponsione al genitore convivente con i figli nel caso in cui il genitore tenuto al versamento del mantenimento per gli stessi non sia più in grado di ottemperare per motivazioni a lui non imputabili. Pensiamo ad esempio al padre che deve erogare un assegno e che non può più erogarlo perché ha perso il lavoro, perché sta vivendo un periodo di cassa integrazione, perché sta vivendo quindi una situazione per la quale si trova ad avere un reddito minimo che va al di sotto dell'assegno sociale. Con l'articolo 8 si introducono degli stimoli per poter attuare dei crediti agevolati. Articolo 9 le modalità attuative, è importante comunque nelle modalità attuative ancorché comunque le nuove regole ISE abbiano chiarito anche questo, sino ad oggi nell'ambito comunque dell'individuazione del disagio economico del genitore che pagava l'assegno di mantenimento per i figli questa entità non veniva assolutamente tenuta in considerazione. La delibera di giunta, la 144 dell'anno scorso aveva già fatto un passo in avanti, tra l'altro c'è stata una recente delibera da parte della giunta che ha ribadito questo aspetto per cui nell'individuazione del disagio economico le modalità attuative intendono sottoporre anche un'analisi sull'assegno di mantenimento che viene pagato oltre alla perdita della casa perché viene perso l'utilizzo della casa ma non la proprietà e in molte occasioni il fatto che essi sia titolari di un appartamento, di un immobile non permette di poter accedere a dei bandi pubblici. L'articolo 10 riguarda il monitoraggio e la valutazione sugli effetti che le politiche che individuiamo all'interno di questo progetto di legge intendono attuare, l'articolo 11 intende invece stimolare nell'ambito della contrattazione collettiva del lavoro strumenti di flessibilità, questo sia con le istituzioni pubbliche che private proprio per poter garantire una maggiore conciliazione di tempi lavoro e famiglia con un occhio di riguardo non soltanto per il genitore generalmente collocatario ma anche per il genitore non collocatario ancorché poi affidatario. L'articolo 12 sottopone l'importanza della divulgazione di strumenti di questo tipo da parte del welfare di Regione Lombardia e l'articolo 13 va a menzionare invece l'aspetto finanziario. Ho illustrato Presidente il contenuto del progetto di legge 49, mi sono dilungato nella presentazione, ho ritenuto che fosse importante poter illustrare tutti gli articoli proprio per sottoporre alla Commissione stessa la facoltà di poter sviluppare una discussione sui vari temi e argomenti che sono stati affrontati. Poneva poi un'altra domanda legata al gruppo di lavoro che si è per l'appunto inizialmente costituito e di cui poi è stato proprio dichiaratamente richiesto da parte di un componente del gruppo di lavoro appartenente anche alle forze politiche di opposizione di sganciare gli altri progetti di legge in quanto vi erano delle incompatibilità. Era una dichiarazione che fu fatta da Carra, quella dal consigliere Carra, perché non vi erano delle compatibilità tra le categorie dei beneficiari. Tra le categorie dei beneficiari, nella fattispecie per quanto riguarda la volontà del consigliere Carra, vi era un aspetto legato al fatto che non vi erano i nuclei monogenitoriali. In realtà questo progetto di legge non vuole parlare di nuclei monogenitoriali, vuole parlare di genitori affidatari di entrambi i figli, con una differenziazione oggi ancora esistente da un punto di vista legale che è quello comunque del collocamento. Per cui sulla scorta diciamo di queste considerazioni il gruppo di lavoro si è interrotto e poi infatti chiedemmo un reincardinamento del progetto di legge all'interno della Commissione e ringrazio quindi la Commissione del Presidente per aver posto oggi in discussione il PDL 49. Grazie Presidente. Bene, quindi sostanzialmente dal punto di vista procedurale il testo rimane invariato sul PDL 49 originario e verrà emendato con proposte di emendamento singole o vi sono delle proposte condivise a nome del relatore già preordinate come risultato del gruppo di lavoro o si ricomincia totalmente? Il gruppo di lavoro si è sciolto quindi si è sciolto e il progetto di legge oggi si presenta così come è stato firmato ha soggettato a quelli che ha soggettato oggetto di possibili esatti di emendamenti da parte di tutti i commissari presenti all'interno della Commissione. Benissimo, quindi alla luce della relazione possiamo aprire la discussione generale e ricominciare si apre la discussione generale se qualcuno vuole farsi paladino dell'altra metà della famiglia ebbene accetto a partire dalla consigliera Macchi prego Grazie Presidente che mi dà la parola Allora, giusto per chiarire la situazione del gruppo di lavoro si era sciolta in quanto i colleghi del PD avevano ritirato il loro progetto di legge noi non l'avevamo ritirato per niente anzi avevamo chiesto l'abbinamento perché nel nostro progetto di legge venivano inserite le coppie di fatto e qui faccio notare come le statistiche Istat quando si estrapola si estrapola qualche volta sempre a proprio vantaggio in realtà le statistiche Istat le ultime perché qui vengono tra l'altro riportate anche dei dati molto vecchi dal 2000 al 2007 ma le statistiche Istat dicono che ormai 4 figli su 10 nascono fuori dal matrimonio e negli ultimi 10 anni le libere unioni sono più che triplicate mentre invece da una situazione di matrimoni in calo e una situazione di separazione e divorzi statica ultima statistiche Istat allora io vorrei sottolineare quello che avevo già detto al consigliere Saggese smettiamola di dire che parliamo di genitori non stiamo parlando di genitori è discriminatorio verso i genitori coniugati e quelli non coniugati non diciamo che stiamo facendo qualcosa per il benessere dei minori perché non è così stiamo facendo qualcosa per il benessere di alcuni minori i cui genitori hanno scelto di essere coniugati degli altri qui non ce ne importa niente allora visto e considerato che c'è un aumento come dicevamo 4 figli su 10 nascono da coppie di fatto allora qui ci occupiamo del 60% del benessere psicologico dei minori e aggiungo un'altra cosa uno degli articoli è assolutamente discriminatorio oltre è tutto discriminatorio perché chiedo che dovunque c'è scritto genitori venga aggiunto per chiarezza per amore anche di precisione genitori separati o divorziati non genitori punto perché qui non si parla di genitori insisto perché questo è rivolto solo a una piccola parte di genitori gli altri non vengono riconosciuti degli altri minori ce ne stiamo fregando si separano anche gli altri anche se non è una separazione sulla carta legale ma è una separazione di fatto del nucleo familiare quando si separa un nucleo familiare il trauma psicologico ed economico sia per i genitori che per i figli minori è identico è uguale fatto salvo quella piccola parte di cui parlavamo che sono le spese legali per il divorzio o per la separazione per il resto stiamo facendo una vera e propria discriminazione e soprattutto quando parliamo di strumenti che assicurino l'informazione il convergimento di entrambi i genitori alla vita scolastica dei figli no qui coinvolgiamo solo i genitori separati gli altri non hanno diritto di sapere che cosa succede dei loro figli a scuola gli altri non hanno diritto di sapere che cosa succede dei loro figli quando vengono ricoverati in ospedale non è un diritto questo dei genitori pur non conviventi con i figli no è un diritto solo di genitori che abbiano scelto di fare una carta legale è questo che stiamo dicendo io questa la chiamo una legge discriminatoria poi ma assolutamente incompleta quello che avevamo provato a fare noi ed era per questo che noi chiedevamo l'abbinamento del progetto di legge 115 era proprio quello di andare a coprire questa parte ed è questo è quello che ho cercato di dire fin dall'inizio del gruppo di lavoro questa parte che secondo me è effettivamente discriminatoria ma che potrebbe veramente essere attaccata perché se nel momento in cui andiamo a parlare di genitori qualsiasi genitore voglia ricorrere nel momento in cui questo diventi un progetto di legge io genitore di figli di coppia di fatto prendo e dico allora a me non tocca niente non sono un genitore io certo che sono un genitore allora non stiamo parlando di aiuto ai genitori allora chiamiamo le cose con il loro nome chiamiamo le cose con il loro nome stiamo parlando effettivamente c'è scritto ma lo ridiciamo sempre gli unici ad avere diritto le attività di formazione riguardanti le problematiche relative al disagio dei minori conseguenti alla separazione dei genitori solo se si sono sposati e poi si sono separati o hanno divorziato gli altri minori evidentemente non hanno disagi questo mi dice mi dicono gli articoli di questa legge per questo noi riteniamo che assolutamente non sia accettabile ed è per questo che avevamo fatto una nostra proposta di legge che chiediamo di abbinare e chiediamo di integrare questo progetto di legge con questa parte che riguarda i genitori tutti i genitori anche quelli che non hanno che hanno scelto di non sposarsi prima di fare figli visto e considerato che come vi dicevo da statistiche istat perché qui parliamo di numeri usiamo i numeri va benissimo ma i matrimoni sono in calo i divorzi sono stabili come numero queste sono statistiche istat e non me le sto inventando io quindi a questo punto vediamo di essere di aprire la mente e di vedere come sono le cose effettivamente ai giorni d'oggi quindi per cortesia non citiamo delle statistiche che stanno tra il 2000 e il 2007 perché dal 2007 ad oggi che mi risulti sono passati sette anni e in sette anni le cose cambiano e come quindi vediamo di tenere dei dati aggiornati una situazione che sia una situazione contemporanea perché noi facciamo delle leggi non per il passato ma si spera per il futuro e vediamo qual è il trend il trend è quello che ci dice che stanno aumentando le coppie di fatto perché in pochi anni sono raddoppiate allora se vogliamo fare una buona legge e io sono d'accordo sul fatto che possiamo fare una buona legge perché effettivamente c'è un aumento di povertà c'è un aumento di disagio l'aumento il rischio di povertà quel quarto rapporto ores eccetera eccetera l'esclusione sociale in Lombardia è vero ma è anche vero che evidenzia come la separazione e il divorzio sono quasi sempre evento primo a seguito del quale emergono problematiche a chi è stato chiesto ai minori i minori non sono in grado di stabilire se la separazione dei loro genitori è legale oppure è da coppia è la separazione del nucleo familiare usiamole in modo corretto allora i dati che mettiamo ecco questa è la posizione del Movimento 5 Stelle che abbiamo portato avanti sin dall'inizio del gruppo di lavoro e che comunque ribadiamo anche qua